Milan-Napoli Ora, col senno di poi è stato un bene non registrare il video post partita a caldo perché avrei esagerato avrei esagerato, ero troppo incazzato, avevo troppo veleno in corpo e probabilmente avrei anche rischiato registrando il video ieri sera oggi invece posso far passare gli stessi concetti però posso farlo in maniera un po' più serena non dico serena, un po' più serena perché essere sereni parlando di Milan in questo momento è impossibile è veramente impossibile e badate bene non parlerò neanche tanto della partita in senso stretto perché non c'è molto da dire ragazzi, ieri il Milan è sceso in campo con una formazione che definire mediocre è un complimento, veramente un complimento e per il tipo di formazione che aveva non ha fatto neanche così schivo per come la vedo io per carità abbiamo fatto esattamente la partita che voleva Antonio Conte esattamente perché loro partono forte trovano il gol dopo 5 minuti poi ovviamente si chiudono ti fanno sfogare consapevoli che tanto non farai niente hanno avuto anche un po' di fortuna sul gol annullato per carità tutto quello che vogliamo ma nel complesso per la formazione mediocre che avevamo non abbiamo fatto neanche una partita così pessima onestamente però dobbiamo anche guardarci un attimo negli occhi perché siamo alla nona partita giocata siamo alla decima giornata ma alla nona partita giocata e abbiamo 14 punti in classifica quindi abbiamo poco da fare i filosofi qua eh però la prestazione no 14 punti in classifica e soprattutto c'è la io ieri sera ho avuto una sorta di illuminazione su un aspetto soprattutto se tu giochi una partita di questo tipo senza Teo Hernandez senza Reinders all'ultimo secondo senza Pulisic tu non puoi giocare senza Leal non puoi mi dispiace io lo so che ovviamente poi questa scelta verrà difesa probabilmente non sarebbe cambiato un cazzo anzi sicuramente non sarebbe cambiato un cazzo ecco vi faccio calmare subito però è una questione di principio è una questione di principio cioè tu in un momento del genere con tutti questi calciatori di qualità senti non puoi permetterti di lasciare in panchina Leao per giocare con Okafor io io fino ad ora ho tra virgolette rispettato la scelta di Fonseca di avere insomma un pugno duro per mantenere il controllo dello spogliatoio ho rispettato il suo come dire il suo tentare di svegliare i giocatori magari con qualche panchina però però arrivi anche ad un punto in cui la squadra deve essere messa al di sopra di tutto questo e se tu nella partita fondamentalmente più importante contro la prima in classifica decidi di lasciare in panchina il giocatore più forte della rosa insieme a Pulisic dopo Pulisic avete capito il concetto mi dispiace non sei un allenatore da Milan sei uno che deve stare il più lontano possibile dal Milan per me ieri sera Paolo Fonseca ha finito ha finito Paolo Fonseca per me da ieri sera non è più l'allenatore del Milan perché ha perso ogni tipo di rispetto da parte mia e ogni tipo di credibilità perché un allenatore che fa queste scelte in questo tipo di partite per come la vedo io è un allenatore che non può essere l'allenatore del Milan punto molto chiaro molto semplice non sarete d'accordo mi dispiace ragazzi mi dispiace ma la classifica parla chiaro il rendimento dei giocatori parla chiaro io posso dare ovviamente tutte le colpe che volete ai giocatori però nel momento in cui tu arrivi litighi con Teo Hernandez litighi con Reinders ti inimichi sostanzialmente i giocatori più forti della squadra fai 14 punti in 9 partite 3 punti in 3 partite in Champions League e non fai vedere uno straccio di gioco perché noi in questo inizio di campionato abbiamo visto il Milan giocare bene soltanto nel derby e in vari spezzoni di partita contro Udinese Lecce Venezia contro queste squadre spezzoni cioè noi poi per il resto il Milan non l'abbiamo mai visto giocare bene quindi tutto sto pugno duro tutto sto rigare dritto a forza di come dire colpi diciamo da uomo da uomo forte a cosa sta portando non sta portando a niente e sapete perché perché Paolo Fonseca non ha niente da proporre purtroppo a livello di gioco quello che vuole proporre al momento non si è visto o si è visto a sprazi i giocatori palesemente ripeto palesemente non lo seguono comunque i più forti non l'hanno seguito e ci ritroviamo in questa situazione con lui che poi è costretto a fare queste scelte per dimostrare di avere ancora un controllo ed un'autorità cioè su un gruppo che ormai è palese non gruppo cioè su dei giocatori su dei big che sostanzialmente ormai non ripeto non lo seguono e siamo qui e siamo qui ora io non dico di esonerarlo perché tanto non cambierebbe niente perché tanto io credo che la stagione arrivata a questo punto sia ormai compromessa e comunque chiunque vai a mettere su quella panchina non ti risolverebbe nulla nulla di nulla cioè tu puoi andare a mettere non lo so chi Bonera o un altro Fonseca come Paolo Sousa perché tanto è questa la tipologia di allenatore che potrebbe succedere a Fonseca quindi che cosa cambierebbe niente anche perché se Paolo Fonseca fa ste cose è perché al di sopra ci sono i veri i veri responsabili che gli permettono di far ste cose o che permettono di far succedere ste cose quindi come posso sperare che con un altro allenatore che non sia Fonseca la situazione possa migliorare non migliorerebbe niente quindi ormai sono arrivato al punto che non posso neanche sperare nell'esonero di un allenatore mediocre per non posso neanche sperare non posso neanche sperare perché so che arriverebbe un altro peggio di lui o come lui e quindi niente io arrivato a questo punto che cosa posso dire dico che è arrivato a questo punto se vogliamo risollevare questa stagione che appare il mio ormai completamente andata però se vogliamo risollevare questa stagione l'unica soluzione è mettere da parte tutte ste cazzate da parte di Fonseca e tapparsi il naso fino a fine anno per alcuni giocatori in nome del Milan e basta e provare a prendere uno dei primi quattro posti perché poi lui parla di scudeccio scudeccio ma scudeccio dopo nove partite chi scudeccio ma chi vuoi far ridere scudeccio ma dove vuoi andare Fonseca dove vuoi andare ripeto vedi di trovare un accordo vedi di rimetterti in pace con questi giocatori qui e e cerca di beccare uno dei primi quattro posti e poi a fine anno levati dalle scatole possibilmente insieme a quelli che t'hanno messo lì vedi